Ripensare il territorio per ripartire, specie nelle marche del post-terremoto, dove il valore dell'identità rappresenta un punto di forza per guardare al futuro. A Treia, in occasione del Festival della Soft Economy, Simbola e Coldiretti, hanno promosso un seminario estivo dedicato ai piccoli comuni, valore aggiunto per il futuro dell'Italia. Una mattinata di riflessioni e proposte sviluppate sulla traiettoria dell'identità, della comunità e dei territori, dove, come nelle marche, l'agricoltura gioca un ruolo importante. La correlazione tra agricoltura, agroalimentare, campagna, quindi piccoli comuni, è una correlazione sempre più viva e sempre più determinante per lo sviluppo della nostra regione. Nelle marche i piccoli comuni sono circa 163 e all'interno di questi piccoli borghi in realtà è racchiuso un patrimonio ambientale, culturale, artistico, imprenditoriale di indiscusso valore. L'agricoltura, da questo punto di vista, ha sempre offerto un servizio alle comunità che popolano questi piccoli comuni, che spesso, tra l'altro, ricadono nella maggior parte dei casi nelle aree appenniniche, che sono state duramente colpite dal sisma nel 2016-2017, per cui le nostre aziende agricole hanno mantenuto comunque sempre vivi territori considerati marginali, ma che in realtà sono assolutamente strategici e indispensabili, non solo per la nostra economia, dell'Italia centrale, ma di tutto il Paese. Quello dell'agricoltura è un servizio di prossimità indispensabile per garantire reddito e futuro ai territori dell'entroterra, ma da sola non basta. Le aziende agricole hanno offerto un servizio di prossimità alle comunità che sono rimaste ad investire e a vivere in questi territori fortemente colpiti, ma chiaramente l'agricoltura non può rappresentare l'unico settore in grado di ridare vita o comunque speranze e prospettive a futuro ad un territorio così importante. Da soli non si può è uno slogan che Simbola ha scelto per il seminario di quest'anno e da soli non si può è chiaramente un motto che noi rilanciamo proprio per chiedere un coinvolgimento maggiore di tutti i protagonisti che possono aiutare insieme all'agricoltura a rilanciare territori così importanti.